Preghiera a Dio per un cammino protetto e radioso. Da tutti i pericoli, minacce e cattive influenze. Non permettere Signore, che mi feriscano, guida i miei passi, sulla retta via. Mi hai dato la vita e sono molto grato, di essere cresciuto in una casa, in cui mi è stato insegnato ad amarti. Oggi come ogni giorno, vi ringrazio profondamente, per avermi concesso la gioia di essere vivo. Mi fido di te, ti chiedo con umiltà e rispetto, l'aiuto per superare questa situazione, che sto attraversando. Lo sai perfettamente, visto che sai tutto, e vedi tutto, confido che mi aiuterai, ad avere una pronta soluzione. Padre mio, non abbandonarmi mai, non lasciarmi solo, confida in questo, tuo servo Signore. Amen. Grazie